ciao ragazzi è appena arrivato un pacchetto ordinato dal sito aliexpress in base al codice di tracciamento dovrebbe trattarsi di una lampada solare ma vista le dimensioni del pacchetto mi sembra difficile che qui dentro possa esserci la lampada ordinata in ogni caso il pacco è stato dichiarato come gift regalo portale di chiusura solar lamp e il valore dichiarato è di 2,4 dollari il pacco è stato ordinato il 15 ottobre 2013 è arrivato il 27 novembre quindi ci sono voluti 43 giorni il prezzo pagate di 9,47 dollari anche se ho usufruito di un buono sconto di un dollaro quindi 8,47 dollari circa 6 euro procediamo all'apertura a presto a presto un telecomando questo è un mp4 da auto un lettore mp4 quindi come previsto non è la lampada ad energia solare che aspettavo quindi aprirò una controversia vedremo un po' come si risolverà controversia per oggetto non conforme vediamo comunque car mp4 player qui è una presa usb questo si attacca all'accendisigari dell'auto e anche carino ma non è quello che avevo richiesto bene anche per oggi è tutto al prossimo unboxing ciao ciao Grazie.